I giovani suonano a Teatro Verdi, a esibirsi questa sera sul palco di Via Politeama gli interpreti dei conservatori di Sassari, Luigi Canepa e Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Si declina così con l'ultima generazione di talenti isolanni dello spartito, il sesto evento della rassegna organizzata dalla cooperativa Teatro e o Musica, i grandi interpreti della musica. Una kermes che ha visto avvicendarsi nelle ultime settimane performer di levatura nazionale e internazionale e che ora si presta a fare da trampolino di lancio le promesse sarde della musica classica, a cominciare dal quartetto coeso, formazione nata dagli studi d'ensemble al Canepa nella classe della docente Bianca Maria Rapaccini. Forte di masterclass e apprendistati di peso, l'organico si pone l'obiettivo di approfondire il repertorio cameristico. Ferenza Niedio, Roberta Doria e i violini, Sergio Lambroni alla viola e Paolo Teddi al violoncello, i componenti del coeso che oggi eseguirà il quartetto opera 96 di Antonin Giorac. Lirica e pianoforte per gli interpreti del Conservatorio Cagliaritano, le prese con aria celebri come Stride e la vampa dal Trovatore di Verdi e la Banera dalla Carmen di Bizet. Francesco Scalas e il tenore Laura Spano, il mezzo soprano, accompagnati da Giancarlo Salari e Salpiano, il trio che, pur giovanissimo, può già vantare importanti esperienze come le masterclass col celebre Renato Brouson per Scalas e la vittoria per la Spano, dell'audizione come solista nella fantasia corale opera 80 in do minore di Beethoven nel nono festival pianistico del Conservatorio 2019. Per gli appassionati della musica l'appuntamento quindi per stasera al Verdi con le due consuete repliche del concerto, una del 17 e l'altra del 20 e 15.